Musica 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 Salve a tutti ragazzi Ben ritornati qui con Andrew and Roblin In un nuovissimo video Siamo di nuovo nella mappa diversity Siamo con... Siamo qui ritornati sulla mappa diversity Per concludere questa mappa Oddio scusami non mi... Scusami scusami non mi picchiare Ah è stato detto non mi picchiare Allora siamo qui cosa vogliamo Fare Mark Quale mappa vogliamo fare? Labirinto andiamo al labirinto allora Stage 1 Entra Vai al labirinto Distruzione Ah bene Labirinto non ti vedo io Ci sono tre stage Arriva alla fine avrai il pezzo Viola e il pezzo viola sarà tuo Te stai già correndo? Sì Ma io non ti vedo Aspetta Per cosa? Se non cosa non vale E' oh sono gente io Te ti ho fatto tipizzare tutte le volte Da me...oddio adesso Oh Gesù il labirinto Io le ho sempre odiati i labirinti perchè mi perdo sempre io Bravo guarda Si chiama proprio apposta labirinto Mi ricorda molto il film Maze Run Allora Cosa parla? Maze labirinto vuol dire Si lo so una parola breve dice tutto Ah beh Ma... I blocchi non li posso spaccare perchè io non c'avrò una gran voglia di spaccare tutti i blocchi Sti blocchi Sarà da chiusa Fantastico Ho sbagliato strada Bene Bene Non ho niente da dire perchè non voglio dichiarare niente Come sei appena arrivato? Come sei appena arrivato? Come sei appena arrivato? Come sei appena arrivato? Arrivato Sei arrivato davvero? Sei stato più bravo di me Sei stato più bravo di me Sei stato più bravo di me Ok io passo per di qua dove sei te? Io passo per questa strada Io non ti vedo lo sai? E' per questo che mi son fermato Perchè io non ti vedo Te vedi me? Si Però io non vedo te Sei un fantasma Sei Casper Oddio non so se sei No quello che suona Rebu Lui è Rebu Risposta è no Allora di qua Di qua di qua di qua di qua di qua Me lo sento? No non è di qua Dimmi che questa è la strada buona Si Eh lo sapevo Oh checkpoint 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 Yeah Ok torce Ehm Faccio il tp Il tp Il tp Fai il tp 3 2 1 Aspetta Si Ok vieni Vieni Aspetta L'entrata si sta chiudendo Il tp Il pizzato Sei? Aspetta Nooo Scrivi male il nome Eh appunto non uso il nome Vabbè è un labirinto di lava andiamo bene Eh che sono morto pure io per colpa tua Vabbè 3 2 1 Si apre Vieni Vabbè 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 Grazie a tutti Grazie a tutti La fine, la fine, la fine Checkpoint Come checkpoint Ci sei? Sei arrivato Sei arrivato anche te al checkpoint Ti vedo, ti vedo, ti vedo Ti vedo, girati Girati, girati Seguimi Aia, maledizione Faccio un piano Possiamo fare il piano? Sì, fai il piano Maledizione Vabbè, ho fatto il checkpoint, vero? Dove sei? Io non vedo niente Ritorno dall'inizio Si, ritornato dall'inizio Ma non è possibile Tipizzati Tipizzati Assolutamente Stavolta devi farlo Ma non vedo, no vedo, ti vedo, ti vedo, ti vedo, io La fine! La fine! La fine! La fine! Vieni! 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 No! Non mi morire così! Tipizzati! 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 Guarda, guarda Siamo alla fine Dio, Bob, guarda Vieni, vieni Vieni, vieni Vieni, te l'ordino Intanto posso spaccare i blocchi Eppure non sono in modalità avventura Gam Memode 2 Ah, proprio in modalità avventura Proprio si può spaccare questo genere di blocchi Vieni, tipizzati Tipizzati, tipizzati, tipizzati Tipizzati, ho detto tipizzati Se la puoi fare È scritto male pure il nome Vabbè Fammi vedere Eh, oh no Guarda, guarda Guardate Che Sei malato Sei malato, Kumagnet Sei malattissimo Oh, la fine Oh Gesù, la mia testa mi fa male La mia testa mi fa male Vabbè, vogliamo Facciamo Siccome è durato un po' poco Posso dirlo Vogliamo fare un altro? Sì Facciamo un altro, va bene No, decido io stavolta Decido io Parkour Perché no Perché mi Istruzioni Inizio Aspetta, parkour Benvenuto alla parte Parkour Non puoi cittare Non puoi cittare Ci sono 15 livelli Arrivata la fine Atterrai la rana Viola Con questo Con questo Ogni checkpoint Funziona Se fallisci Inizierai Per quel livello Ogni volta che puoi lasciare Per cliccare il botone Per tornare indietro Ma se lasci il ritorni Dovrai rifare tutto All'inizio Quindi buona fortuna Ok Scendiamo di qua Oh mio dio Vabbè questo Facilissimo Si fa così A occhi A occhi chiusi Checkpoint Questo facilissimo Questo si fa così Occhi chiusi Sempre Questo si fa Mezzo Con un occhio Chiuso Oddio Sono migliorato Nel parkour Sono andando avanti All'infinito No Prova a cadere Nella presser plate Sotto lì Voglio vedere Se il checkpoint funziona Cadi Ah no Tipizzati da me Se mai Sono al checkpoint io Allora devi fare così Devi fare il tp Devi fare il tp Non funziona C'è indietro Io guarda dove sono Sono al Sono al 6 Vieni Oh 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 Pure la musica Rilassante Oh Praticamente Stiamo andando Perché è notte? Non lo so perché Ma è venuta notte A volte viene notte A volte viene giorno Ma perché? Ogni volta Ah ogni volta che uno di noi Sbaglia tipo No No Tpizzati da me Fai la cosa Fai tp Voglio fare così U Azionale Non mi ha neanche la paura Dove sei? Dove sei te? Io sono al Io devo arrivare a 9 Ti dice sopra Sopra c'è il numeretto Sei Sei al 6 Io sono all'8 Ma stai camminando bene Tu di solito non sei molto bravo Nel percure Oh Ho fatto il 9 Sono al 9 Sono al 9 io Oh Stile Così si fa Yeah Yeah Bits Come dire questo? Guarda come si fa No Maledizione 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 A lui Maledizione A te Q Magnet Maledizione Magnet è una cosa Non sei per niente magnetico E nemmeno magnifico Ok Sì No Credevo che c'era un blocco sopra Ma Cazzo sono ritardato La faccio Sì Di bro Madonna Morana 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 To To Dai Perché? C'hai fatta? No Mi sto incazzando Mi sto incazzando molto Perché non ne posso Già più Già Già abbiamo fatto il labirinto Che mi ha fatto abbastanza arrabbiare Soprattutto il fatto che Te hai completato lo stage 1 Prima di me Eh Devi andare sempre di ritto E E poi Sto cazzo di parkour Dai Dai Sì Sì Oddio No No Con l'acqua Ma te sei un folle È un folle Come è me? Eh vabbè Te lo sapevamo già tutti che eri un folle Però questo è Guarda Guarda come devo fare questo parkour Guarda È una madonna Guarda Di qualcosa È una madonna Una madonna? Cos'è una madonna? È una madonna Non sono un cazzo Ok Oh Gesù Oh Gesù Kumagnos Kumagnet Si chiama Kumagnet Ok Io voglio fare un F5 Perché io posso No vabbè Niente F5 Perché se no dopo non ce la faccio Ok 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 Me ne sono rimasti pochi Bombaglissimi Sii Sii Ce l'ho fatta Ce l'ho fatta Dove sono? Sono all'11 io Sono all'11 Sono all'11 Oh qua non mi lagga Non mi lagga Eh perché non vuole partire la gare Perché vuole che soffri Perché vuole che soffri per bene nel parkour non soffre per bene ma lui non c'entra niente devi devi incazzarti col tuo computer deve arrabbiarti colpa sua perchè che creato una delle mappe più epiche del mondo dai ma non posso cedere così dai dai omino dai marted a che punto sei sei ancora sei io sono al dodici sono all'undici no sono all'undici sei arrivato ancora no ho superato il dodici no 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 porca puttanna guardate folle folle uomo no si 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 ho fatto sono al tredici grazie a tutti grazie a tutti No! 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 Basta! Dove sei? E leggi la frase che c'è scritto sotto E' caduto fuori dal mondo Son morto Sì, sì, l'ho fatto apposta Hanno ste fence di merda Sì, 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 sì Sì, 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 sì Sì, 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 sì Sì, 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 sì Letto sotto? Caduto fuori dal mondo Perché? Perché all'ultimo? All'ultimo cazzo, due volte! Due volte! Una volta va bene, ma cazzo, due volte Due volte! Niente, oh! Cazzo si fa! Oh, aspetta, forse una tattica Forse la tattica non funziona Forse la tattica no No, non funziona la tattica Della tattica che avevo pensato Non funziona Per niente Ma io ci voglio provare No, non funziona per niente Sta merda di tattica Perché cazzo? Non salti! Sei all'otto Hai fatto il sette? Sì Sei all'otto Io sono ancora qua Mi dicevo Era facile Invece no Perché non funziona Perché non funziona il tasto? Tanto non lo tratti Perché te ho teletrasportato Adesso soffri anche te con me Soffri anche te con me Te, ah, ah, no Io ho un'idea Più andiamo avanti Allora, facciamo una cosa Facciamo una cosa intelligente Allora Aspetta, stai fermo? Ti vedi? T'ho visto Te mi servi Allora Te mi devi servire da Da checkpoint Quindi te Allora Io più vado avanti Sono alla fine Dai Dai No 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 Allora Facciamo una cosa Intelligente Tu resta qui ad aspettare Io vado avanti Tu sei stato Tutto il momento per il 6 Nel frattempo Ti stavi divertendo Perché quella Era una cagata Questo Questo Fa acchiappare Il nervoso Dio mio Dio mio Dio mio No Non posso più Non ne posso più Non ne posso più Guarda che tra poco piango Tra poco piango Dai Sì Sì Nel culo Nel culo Nel culo Nel culo Nel culo Oh Guarda adesso Questa è più semplice Vedi Vedi è più semplice Oh Che bellezza Purtroppo non c'è niente Nel chest Per te Per te ho detto Per me Per me ci saranno diamanti E belle donne Oh culo Ho salvato Al pelo Sì E vai E questa l'ho fatta L'ultimo L'ultimo da fare L'ultimo 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 E mi si Io ho quasi finito No Guarda Guarda L'ultimo 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 E' l'ultimo Questo Ma perché Cazzo Metti un coso Lì Che non posso Saltare Dopo Ma sei Coglione Comagnete Coglione Molto Ottotamente Più No Quella pedana Di merda Quella pedana Di merda Quella pedana Di merda Adesso un attimo Scusate Taglio Raga Ci sono Sì 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 Marca Abbracciami Marca Abbracciami No Vabbè Basta Calmo Dobbiamo finire Abbiamo finito Finiamo il video Finiamo il video No Dobbiamo finire Dobbiamo finire il video Dobbiamo finire il video Stai di fianco a me Sì But first Ok Aspetta Mi ti 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 Allora Quindi No Di fianco Allora Spero che questo video Vi sia piaciuto Lascire tanti commenti Tanti pollicioni Versa latte Non verso il basso Tanti pollicioni Non verso il basso Perché sennò Cos'è che fai te Marca Vi troverò E vi ucciderò Non è cosa vostra E se non siete iscritti Iscrivetevi al canale E noi ci vediamo A un prossimo video Bella per voi